Sono di proprietà dell'Azio. Un dono, un altro dono. Allora, io a breve vi aggancio all'intervento dell'assessore. Infatti, Borsano fa cultura, fa cultura anche proprio per la città di Busto, attraverso queste iniziative che ogni anno propone, che riguardano la salute pubblica. E ci tengo a sottolinearlo perché è proprio un intervento che sarebbe il caso anche magari di studiare bene con il Comune per dare uno spazio significativo. Perché io credo che sia fondamentale il lavoro che l'Avis fa di cittadinanza consapevole, di cittadinanza attiva. Perché proprio l'Avis, controllando i donatori, lavorando sui donatori, permette di far acquisire dei comportamenti corretti che servono a tutta la società. Per cui davvero è un lavoro che culturalmente è formidabile. E mi permetto di sottolineare che questo lavoro va avanti, direi, con una sezione molto viva come questa di Borsano, che è capace costantemente di riproporsi, nonostante le delusioni che purtroppo sappiamo spesso vengono riservate a certi momenti. E poi perché questo lavoro dovrebbe aiutare a superare un problema che è grosso per la nostra società, che è quello di una presenza costante, di un impegno. Il donatore è quello che dà il suo sangue e quello che proprio lavora anche costantemente nei consigli per creare una continuità. E mi sembra proprio che Borsano, con il Buonti Ciroli e adesso con Barbaglia, proprio porti avanti questo discorso che è fondamentale. Grazie mille. Quinto, ti ho lasciato per ultimo. Come le cingi? Perché non sanno cosa rischiano. Non sapete cosa rischiano e dammi la parola. Grazie mille. Grazie mille.